La massa della 1 è molto più piccola della 2 Adesso facciamo un caso di questo tipo In cui chi era in alto? Era il corpo, non mi ricordo più l'allumerazione Era la 1 e la qua E la 2 era qua, giusto? Quindi io voglio adesso discutere il caso In cui la massa della 1 E' molto più piccola della 2 Quindi immaginate una Una piuma a penzoloni E' qua su un pieroforte Il motivo per cui avevo messo il pieroforte su un carello I pieroforti hanno già le ruote E' perchè volevo disegnare una persona seduta E che suona meglio Allora l'accelerazione abbiamo calcolato è questo Io voglio Studiare il limite che il corpo a penzoloni Abbia una massa molto più piccola del corpo in alto Ok? Quindi il trucco qual'è? Di scrivere, siccome è m1 Voglio che sia molto più piccolo rispetto a m2 E' come dire che il rapporto di m2 su m2 E' molto piccolo rispetto a 1 Quindi la strategia di studiare il limite Secondo me, come faccio io E' descrivere la formula In modo da mettere risalto frazioni Che si possono vedere al volo Come trascurarle Quindi vedete ho semplicemente messo in evidenza M2 qua sotto Perché avete il rapporto M1 diviso m2 Avete m1 diviso m2 E se tutte e due Sono piccoli perchè la m1 Ha una massa molto piccola Vedete che l'accelerazione è molto piccola E nel limite che m1 tende a 0 L'accelerazione tenderebbe a 0 Ma attenzione Se vuoi attaccato la piuma qua E il pianoforte non è 0 L'accelerazione è diverso da 0 Quindi prima o poi Il pianoforte è tirato oltre il bordo Quindi è spacciato Quindi il pianista ha tutto il tempo Di scrivere il testamento Ma lo deve scrivere perchè è spacciato Invece se l'accelerazione è attaccato Per una fatta coda Il tempo per scrivere il testamento è più corto Chiudo perchè c'entra macchine Va bene? Domanda Qual è l'accelerazione? Se avete un corpo qui Attaccato al filo Un rullo lubrificato Lo scopo del rullo è solo quello di deviare La direzione della tensione del filo E qua giù avete Che so Qual è l'accelerazione? Subito Allora uno può fare i conti Che è bene fare perchè io potrei chiedere Oppure comincia a interiorizzare I risultati Per chi li capisce E vede Questa formula qua E quella che abbiamo fatto Vede A Questo è A Che è un'accelerazione Quindi è G Moltiplicato per un numero Numero E questo numero A dimensionale Per un rapporto di massa Guardate il significato di questo rapporto di massa M1 chi è? E' la massa oltre a penzoloni M1 più M2 E' la massa totale Quindi io subito Una volta che capisco quello Soscrive subito l'accelerazione qua Non vi credete? Fate i conti Avete due segmenti di filo Quindi allunghiamo questo Per poter fare il disegno delle tensioni Quindi qua avete un corpo L'avevo chiamato da 2 Qua giù un altro corpo 1 E scrivete le equazioni dei corpi Allora di nuovo avete due segmenti Questo è il segmento A E questo il segmento B I due segmenti sono fili Inestensibili e di massa trascurabile Proprio perchè di massa trascurabile Il corpo 1 Se io chiedo di scrivere la legge del moto Il corpo 1 Il moto del corpo 1 E del corpo 2 Sono entrambi moto in etiline In una verticale Il corpo 3 ha moto orizzontale I fili sono inestensibili Quindi le accelerazioni L'accelerazione del 1 Del 2 verso il basso è condiviso E l'accelerazione Cioè tot numero di centimetri al secondo Verso il basso Sarà l'accelerazione di questo verso destra Quindi hanno la stessa accelerazione Quindi io non scriverò A1, A2, A3 Ma scriverò l'accelerazione condivisa Certo l'accelerazione 1,2 è lungo la verticale E l'accelerazione 3 è lungo la orizzontale D'accordo? Legge del moto al corpo 1 C'ha sicuramente La forza peso Se questa è la direzione positiva E' verso il basso Quindi entra con più m1g Poi c'è una forza verso l'alto Quindi entra con un segno meno Che rappresenta la tensione del filo Qual è la tensione del filo? Che sembra una domanda molto puntuale Qual è la tensione del filo? E' una domanda che ha senso Se il filo è di massa trascurabile Perché se il filo non ha massa trascurabile Dire qual è la tensione del filo Voi studenti dovete dire Dove professore? Non dimenticate mai Non dimenticate mai questo esempio qui Qual è la tensione del filo? E' una domanda mal posta Perché va specificato dove vi interessa Voi dovete chiedere Dove professore? Io dirò qua Oppure qua Oppure qua Qual è la tensione del filo? E voi risponderete Dove professore? Io dirò qua Oppure qua Invece quando il filo è di massa trascurabile Allora la tensione del filo qui E' uguale a tensione del filo qui E' uguale a tensione qui E quindi la domanda ha un senso Qual è la tensione? Perché c'è una tensione Ma nel momento in cui il filo Non ha massa trascurabile La tensione varia da punto a punto Sul filo Chiaro? Non vi credete? Fate, fate, fate Il filo fatto da tante masse E convincetevi Che tensione qua Diverse da qua da qua da qua da qua da qua Eh? Ok Allora Il filo è inestensibile Sia il segmento A Che il segmento B Quindi La forza che il corpo 1 sente È dovuto al filo È una freccia verso l'alto Ma la forza che il corpo 2 sente Oltre alla sua tensione del filo Quindi Questo la chiamo t verso l'alto Corpo 2 Ha il suo peso Che è verso il basso E Ha una forza qua Che è uguale e contraria a quello Perché il filo A è di massa trascurabile Quindi questo la chiamerò tA Questo è tA Questo è un tA verso l'alto Questo è un tA verso il basso Quindi se questo è positivo Questo è un tA negativo Questo è un tA positivo Qua avrò una tensione del filo Il corpo 2 sente anche la forza dovuta All'interazione con questo filo Il segmento B Quindi disegnerò una freccia qui La chiamerò tB Ma è verso l'alto Quindi si mette un segno meno Questo filo qui è di massa trascurabile Qua è ben lubrificato Quindi la tensione qui Qui la forza che il corpo 3 sente Per effetto del filo È di qua e ha lo stesso modo Di questa freccia Ok? Questo è un più tB Perché la direzione positiva di questo È verso il basso Qui la direzione positiva di questo È verso destra Questa freccia è verso destra E entra un segno più D'accordo? Quindi il corpo 2 ha tre frecce Che agiscono sul corpo 2 C'è la forza peso C'è la tensione tA E c'è la tensione tB E vanno scritti col segno algebrico corretto Quindi questo è verso il basso Il segno positivo TA è verso il basso Il segno positivo TB è verso l'alto Il segno negativo Il corpo 3 ha solo la tensione del filo Ed è un tB verso destra Quindi è positivo Quindi avete tre equazioni Tre incognite Una delle incognite è facile da ricavare L'accelerazione Facendo la somma Quindi avete M1 più M2 più M3 Per l'accelerazione comune E a destra avete questa cancellazione La 2,2 Stile, stile, azione e reazione Come se fossero forze interne Quindi queste sono due forze interne E queste sono due forze interne Come? Quindi questo ammazza questo Questo ammazza questo E avete M1 più M2G E quindi l'accelerazione La scrivo qua E' per appunto M1 più M2 diviso M1 più M2 più M3G E come vi dicevo questo con un po' di intuizione Ma è un'intuizione non della strada E' un'intuizione di un corso di fisica Che viene facendo gli esercizi Quindi uno poteva scriverlo subito Perché lo vedeva come la massa Penzoloni Diviso la massa totale Era la generalizzazione della formula di prima Però l'esercizio non finisce dal calcolo di A L'esercizio è completo quando avete detto cos'è T A e T B E quindi voi potete anche scrivere questo dicetto Ma dovete comunque essere in grado di impostare queste equazioni Perchè io vi chiedo cos'è T A e T B Ovviamente T B la vedete da qua Quindi riscriviamo A Perchè avrò bisogno Questo è la Penzoloni A Penzoloni abbiamo la 1 e la 2 Diviso la massa totale Per l'accelerazione di G Qui sul pianeta o sul raggio Questo non funziona se siete in un raggio molto rispenti Che non ruota rispetto alle stelle Perchè non avete una forza peso Perchè siete sul pianeta O non avete la forza fittizia Che è simile alla forza peso Cos'è T B? T B la prendete da qua Quindi T B è uguale a M3 M3 che moltiplica A E questa roba qua Quindi ho M1 più M2 diviso M1 più M2 più M3 Questo che moltiplica M3 per G Poi una volta che avete T B Dovete ricavare T A E lascio voi fare i conti E non voglio rifarlo E vorrei che voi vi soffermaste Sul fatto che T A e T B Sono diversi Sono diversi perchè? Perchè la tensione qua È diversa da la tensione qua? Perchè c'è il corpo 2 e mezzo! E studiate il limite di cosa diventa T A e T B Nel limite che M2 tende a 0 Noterete che questa tensione tende ad essere uguale a quella Ok? Ricomincetevi di questo Variazione Immaginate che avete un cilindro Come questo è un cilindro Che ha una struttura che lo tiene su Ed è lubrificato Immaginate di avere un cilindro Abbastanza grosso Tenuto su con una struttura Non so Potrebbe essere una cosa del genere Ok? E mettete uno spago A cavaccioni del cilindro E poi qua attaccate due masse diverse Quindi visto in questa Quindi avete lo spago Lo spago è un filo ideale Attenzione Un filo ideale Qua avete una massa che so Quale chiamiamo 1 e quale chiamiamo 2? Chiamiamo questo 1 e questo 2 Il filo è ideale Inestensibile E di massa trascurabile Immaginate che il filo sia lubrificato A scorrere su quel cilindro A scorrere su quel cilindro Quindi vuol dire che Non fa nemmeno Perché se facessi Vuol dire che c'è Vibra Cioè perché il filo Slitta e grippa Slitta e grippa Slitta ha bloccato Poi cede Questi movimenti rapidi Fanno un suono Quindi non deve neanche fare È lubrificato Allora Tutti i due moti Tutti i due ceroi sport 1 e 2 I loro motti sono rettilinari Al meno che finché Ovviamente non avviene La situazione catastrofica Che la 1 scenda così tanto Che fa arrivare guà su Che con la 2 O fa la capriola Quindi finchè non avviene qualcosa di catastrofico La 1 si limita ad andare lungo la verticale La 2 lungo la verticale Ma il filo è inestensibile Quindi cosa fanno? La 1 scende o sale? Boh! Perchè non ho ancora messo nessun valore numerico Quindi come ho scelto arbitrariamente Chi è la 1 e chi è la 2 Scelgo arbitrariamente qual è la direzione positiva Quella di 1 dei 2 E' una scelta arbitraria quella che faccio Chiamo la direzione positiva della 2 Salire è la 2 Per positivo intendo salire Ma salire la 2 vuol dire che la 1 scende Quindi se la 1 scende di 10 cm Perchè la 2 è salita di 10 cm Se la 1 sta scendendo a 10 cm al secondo La 2 sale a 10 cm al secondo Se la 1 sta accelerando verso il basso A 10 cm al secondo La 2 sta accelerando verso l'alto A 10 cm al secondo I moti sono legati assieme Dal filo Quindi se questa è la direzione positiva Se la 2 sta salendo la 1 sta scendendo Per la direzione positiva della 1 è così basso Eh? Attenzione Una volta che ho preso arbitrariamente Lanciando la moneta Ho deciso di concentrarmi su uno dei due Poi ho lanciato una seconda volta la moneta Ho deciso di decidere arbitrariamente qual è la direzione positiva di quel corpo Ma una volta che ho fatto questo L'altro corpo è obbligato La direzione positiva di questo è obbligato dalla scelta di questa Questa poteva essere una scelta arbitraria Ma questo non lo è più Dove essere chiaro questo Allora scriviamo l'equazione del moto Sono due corpi E quindi dobbiamo con pazienza scrivere la scelta del moto Il corpo 1 la direzione positiva è verso il basso M1 per l'accelerazione del corpo 1 Allora verso il basso il corpo 1 Se ha un valore di accelerazione Il corpo 2 ha la stessa accelerazione però verso l'altro Quindi non avrò più bisogno di A1 e A2 Avranno un'accelerazione condivisa Però hanno sensi agebrici molto precisi eh? Se questo è positivo Il positivo di questo è verso l'altro eh? Bene Quali sono le forze che agiscono sul corpo 1? Ce ne sono due La forza peso che è verso il basso M1g E c'è la forza che il corpo 1 sente per l'interazione del filo Ed è il filo lo sta trattenendo Se non ci fosse il filo il corpo 1 avrebbe accelerazione g Quindi la tensione del filo, la forza che il corpo 1 sente per l'interazione del filo E lo disegno Magari così Ok? Ma proprio perchè qua non c'è attrito E perchè il filo non ha massa o ha massa tasturabile La forza che il corpo 2 sente per l'interazione del filo Ha lo stesso modulo ed è rivolto verso l'alto oppure questo ovviamente Perchè se il filo non ci fosse il corpo 2 cadrebbe Quindi questo e questo hanno lo stesso modulo Quindi il corpo 2 intanto possiamo continuare a scrivere qua Questo è verso l'alto quindi entra con un segno meno Il corpo 2 Il corpo 2 Attenzione la direzione positiva è questa Come la scrivo? Questo è il passaggio fondamentale Dove gli studenti slittano sulle busse di banana E fanno brutte figure Come si scrive l'equazione del corpo 2? La direzione positiva è verso l'alto Quindi voi dovete scrivere le forze che agiscono sul corpo 2 Con i segni algebrici corretti La forza peso del corpo 2 è verso il basso Ma la direzione positiva è verso l'alto Quindi la forza peso va scritta con il segno meno Se non fate questo, sbagliate proprio tutto E la tensione del filo che abbiamo chiamato T Questo qua è verso l'alto Quindi è per un segno più Questo è fondamentale questo passaggio Se non capite questo Sbaglierete di grosso E farete una figura pessima Due equazioni, due incognite Una delle incognite è la più facile da ottenere Non cominciamo a chiacchierare troppo per cortesia Siamo tutti stanchi Io più di voi non ho dormito abbastanza di sera Di nuovo vedete questa cancellazione molto suggestiva Che vi deve ricordare la cancellazione di forze A2 e 2 Delle forze interne Forza azione reazione Ma presa certo con le pinze Perché è evidente che questa forza e questa forza Non sono antiparallele Non vi pare? Ma quello è solo perché il filo ha deviato le forze Ha solo deviato le forze E quindi ecco che l'accelerazione è uguale a M1-M2 diviso M1 più M2 per G Quindi questo è un bellissimo risultato Perché vi fa vedere Vi fa vedere che l'accelerazione Avete l'accelerazione come la volete interpretare? Quello del corpo 1 o quello del corpo 2? Del corpo 1 o dell'accelerazione verso il basso? Del corpo 2 verso l'alto? Quella accelerazione deve essere interpretata se state parlando del corpo 1 o del corpo 2 Ragioniamo in termini del corpo 1 Questo rappresenta l'accelerazione del corpo 1? L'accelerazione del corpo 1 La direzione è positiva Abbiamo detto adesso il basso E quindi vedete che il corpo 1 accelererà nella direzione positiva A patto che il corpo 1 abbia una massa superiore al corpo 2 Se M1 è maggiore di M2 L'accelerazione è positiva Che per il corpo 1 vuol dire che va giù Per il corpo 2 vuol dire che va su Se invece M1 ha una massa inferiore a M2 Allora l'accelerazione è negativa Se ragionate in termini del corpo 1 Un'accelerazione negativa vuol dire che va verso l'alto Accelera verso l'alto E un'accelerazione negativa per il corpo 2 vuol dire che va verso il basso Perchè il positivo per il 2 è da sapere E se le masse sono uguali L'accelerazione è zero Cosa vuol dire? Che inizialmente se voi tenevate con le mani E lasciate la presa loro stanno fermi Se invece inizialmente sono già in movimento Per esempio uno sta già scendendo a 10 cm al secondo Avere uguale massa vuol dire che continuerà a scendere a 10 cm al secondo Cioè non cambia la sua velocità Scende a velocità costante L'altro sa la velocità costante Avere accelerazioni vuol dire che la velocità cambia Quindi avrete equilibrio Cioè non succede un cazzo Se oltre a non avere una forza Il corpo è anche fermo Se non c'è una forza ma il corpo è in movimento Non avrete equilibrio Perchè è già in movimento Pensate alla molla compressa no? X uguale a 0 la molla non è distorta Nè allungata Ma se il corpo in quel momento è già in movimento Supererà e deformerà la molla Solo se il corpo è fermo nella posizione di x uguale a 0 rimarrà fermo Solo se questi sono fermi e le masse sono uguali rimarranno fermi Quindi è necessario per avere equilibrio che la forza sia 0 Ma non è sufficiente Per essere in equilibrio serve anche che il corpo sia fermo Perchè sei già in movimento Cominciate già a padronizzare questa cosa Ok questa qua si chiama la macchina di Atwood Il signor Atwood E questa è una variante non vi pare? Questa in fondo è una variante della macchina di Atwood Ci sono tante varianti Questa è una variante Piano inclinato cilindro Qua c'è un corpo Qua c'è il filo ideale Che sale e gira senza attrito Questo è un piano inclinato di un certo angolo Tutto senza attrito Qua non c'è attrito Per il filo E qua senza attrito Come risvolgereste questo esercizio? E' una cazzata no? Si? E' una cazzata Corpo 1 Qual'è la direzione positiva? Su chi ci concentriamo? La 1 o la 2? Monetina Quindi il centro di massa farà una parabola C'è il moto attorno al centro di massa della monetina Però la forza peso non applica un momento torcente Quindi se la monetina sta facendo le capriole Perché io impresso un momento torcente col pollice Gli do un momento torcente impulsivo Questo accelera gradualmente Ma staccato dal mio dito La forza difesa non fa più un momento torcente Perché? Si disegna il centro di massa E questa monetina sta facendo le capriole La guanto E qual'è la probabilità che abbia una testa o croce? Beh, se ha fatto tante capriole Se io tiro un po' a cazzo Avrò una probabilità del 50% di dovidare C'era un famoso statistico Credo che sia ancora vivo in America Che era vissuto in un quartiere malfamato Era di povera famiglia Anzi è molto interessante Negli Stati Uniti Se uno va all'università O va nelle corti dei giudici E guarda le origini familiari delle persone E spesso i padri sono operai, contadini, eccetera In Italia il docente è il figlio di un docente No, si chiama mobilità sociale Non è detto che si sia debrucciato Può anche essere tutto onesto E' semplicemente immobilismo sociale Cioè chi nasce figlio operario Difficilmente riesce a cambiare Non perchè c'è debrucciato Sificamente perchè il sistema è così Questo corpo si muove di moto rettilineo Questo corpo si muove di moto rettilineo Eh? Qual è l'equazione del moto del corpo 1? Allora qual è la direzione positiva? Qual è la legge del moto del corpo 1? Allora M1 per l'accelerazione in questo motore rettilineo Ma sarà la stessa accelerazione lungo questo motore rettilineo Perchè il filo è inesensibile Qua ho M1g e ho la tensione del filo che agisce per contrastare la forza peso Quindi la forza peso e quindi la scrivo con un segno meno Perchè è verso l'alto Quindi meno T Questo corpo come scrive la sua legge del moto? M2 per l'accelerazione con divisa La direzione positiva è questa Allora la tensione del filo entra con il segno più E' d'accordo E cos'altro sta agendo sul corpo? Non tutta la forza peso ma solo la parte della forza peso che è responsabile Ok? L'ho sporcato il disegno che lo faccio qua Questo è il corpo Io sto discutendo di questo moto Del moto a salire lungo il piano E' chiaro che la forza peso La disegno così Eh? Ma il corpo non va così Il corpo va in questo moto Quindi se io staccassi il filo Se io tagliassi il filo Il corpo scilorebbe lungo il piano Con quale forza? Che forza sta agendo? Sulla parte della forza peso che è lungo questa direzione Quindi voi dovete scomporre la forza peso in due direzioni Uno lungo il piano E uno perpendicolare al piano Questa è la parte della forza peso che è lungo il piano Questa è la parte della forza peso che è perpendicolare al piano Il piano sta impedendo al corpo di andare in questa direzione Quindi c'è una reazione del piano che è uguale e contraria a questa Questo non ci piace Il moto sta avvenendo lungo il piano Quindi questa è la componente che mi serve Allora se questo è l'angolo teta Dov'è l'angolo? Perché ho messo l'angolo qui Dov'è l'angolo qua? Qual'è l'angolo? Accentuatelo quando avete un disegno così E non è chiaro Perché l'ho fatto molto vicino a Eh non è proprio 45 gradi 45 gradi è più così Però qual'è l'angolo? E vedete che questo qui non vi pare? Se non vi credete provate ad accentuare il disegno Se questo è il piano inclinato E questo è il vostro corpo E avete la forza così Quindi dovete accentuare il disegno Questa è la direzione perpendicolare Questa è la direzione lungo il piano Scomponete la forza lungo il piano E perpendicolare al piano Lo vedete? Che questo angolo qui Qual'è? Eh? E' questo qui D'accordo? Quindi questo chi è? Se questo è mg Questo è un angolo Questo è un cateto opposto Questo è mg seno di teta D'accordo? Mg seno di teta Quindi l'equazione del moto del signore qui Ho la parte della forza peso Che è verso il basso E ho la tensione del filo Che è uguale, potrari a questo Questo entra con un segno più Questo entra con un segno meno Perché la direzione positiva è da salire Quindi scrivo meno m2g seno di teta Ok? E' molto importante che voi capiate i segni Alla fine una delle scelte è arbitrarie Ma l'altra non lo è più E' obbligato dal fatto che il filo è inestensibile A questo punto avete due variabili Due funzioni e due variabili La a è la più facile Quindi avete che l'accelerazione E' uguale quando sommate queste due Avete m1 più m2 in evidenza Questa t va via che questo t Avete m1 meno m2 seno di teta Diviso la somma per g E vedete che l'accelerazione Con il fatto di avere un piano declinato Entra questo seno di teta nella formula di Atwood Dov'è la formula di Atwood? L'ho cancellato La formula di Atwood era M1 meno m2 diviso la somma E vedete che è entrato quello Cosa cambierebbe se facessi Un problema di questo tipo? Lo spesso diciamo il pegnato doppio Allora Allora Dovete decidere qual'è la direzione positiva Dovete decidere Decidiamo che sia di qua Quindi la 2 a scendere Implica che la 3 va a sinistra E la 1 sale Quindi le questioni del moto Sono m1 per l'accelerazione comune Che avranno Perchè i fili sono sensibili Ho segmenti A e segmenti B Due segmenti Quindi ho M1A con la parte della forza peso Che lungo questo piano declinato La forza peso scende per di là Sarà M1G seno di teta Perchè se ho questa forza peso Solo la parte che mi interessa E questa è questa parte della forza peso Che è Mg seno di quell'angolo Che è alfa Quindi ho meno M1G seno di alfa Poi ho la tensione del filo Ok? Che è nella direzione positiva Questo è il filo A Quindi chiamo questo TA Quindi più TA Corpo 2, corpo 3 Andiamo in sequenza va Corpo 3 A Cos'ho? Il corpo 3 Se il filo è di massa trascurabile Oltre che inestensibile La forza che rappresse Dovuta al filo 3 E' uguale e contraria A questa forza qua Quindi questo è TA Che entra là Visto che la direzione è positiva Questa è un meno Qua avrò una forza In questa direzione Dovuta all'interazione con il filo Ed è alla stessa direzione Quindi questo è un TB Quindi qua ho TB Meno TA Poi ho il corpo 2 Qua la forza che è il 2 Se è tenuta all'interazione Con il filo B Perchè è inestensibile Especialmente in massa trascurabile E' uguale a questa qua Quindi entra in questa direzione positiva Questo sarà un meno Quindi ho M2G Seno di beta Perchè è la parte della forza peso Che è nella direzione Che mi interessa E questa è la direzione positiva Quindi più M2G Seno di beta Di questo angolo Meno TB Facile, non sono cazzate queste qua Sommate per avere la A Quindi avete M1 Anzi possiamo scrivere quasi subito A è uguale a diviso Abbiamo M1 più M2 più M3 C'è la G E c'è un numeratore Che è meglio che abbia La dimensione di una massa No? Ok E il numeratore Come volete dire Questa è la TA E avete A M2 seno di beta A meno M1 seno di alfa Molto semplice E questa vi da la selezione Poi vi chiedo qual'è il tensione del filo A E i B saranno diversi Perché sono diversi? Perché c'è il corpo 3 No? Per quale motivo Questa tensione qua Dovrebbe essere uguale A questa tensione qua? Però nel limite Che questo qui Tende a 0 Rispetto alle masse T1 e T2 Nel limite che T3 È frascurabile Vedrete che questa tensione è uguale a questa Convincetevi di questo fatto Continuate con questo modo di ragionare Altra versione di Atwood Vedete come una volta che uno ha abbastanza teoria Riesce a dare veloce a fare gli esercizi Però gli esercizi sono comprensibili o incomprensibili Nella misura in cui voi studiate Adesso questo cilindro qua Immaginate che abbia un foro E che è montato su questo bastone Su quest'asta E che sia lubrificato Quindi quel cilindro è libero di ruotare Quindi questo è il vostro cilindro E' libero di ruotare su quest'asse Quindi se voi date un momento Torcente impulsivo Aguardate questo estremo E tirate verso il basso E questo estremo tirate verso l'altro Fate così Lui Anzi non fa Non fa rumore Non fa niente Senza attrito Ok? Quindi questo cilindro è libero di ruotare Il filo è libero di ruotare Attorno all'asse passata presso il centro Adesso Filo Filo Inestensibile Ideale Per il filo Ok? Ma questa volta non voglio che il filo sia libero di scorrere Io voglio addirittura Io voglio addirittura Per esempio potete immaginare di inchiodarlo In modo che se il corpo 1 scende Ovviamente il corpo 2 sale Ma se la 1 scende e la 2 sale E' perchè il cilindro è ruotato Ok? Io voglio coinvolgere il cilindro E quindi voglio che il filo non scivoli Quindi se il cilindro gira Allora il corpo 1 scenderà Se gira in senso orario Se gira in senso orario Il corpo 1 salirà E il 2 scenderà Quindi il moto della 1 è correlato E' legato al moto del cilindro La 1 scende Vuol dire che questo è girato in senso orario La 2 scende E vuol dire che il cilindro è girato in senso anti-orario Eh? Questo è lo scopo del chiodo Se io togliessi il chiodo E se non ci fossi attrito Allora la 1 e la 2 potrebbero Salire e scendere E il cilindro non farebbe nulla Rimarebbe fermo Invece io voglio che il cilindro venga coinvolto Quindi lo inchiodo D'accordo? Quindi quale sono? Adesso ho 3 corpi Ho 3 equazioni del moto Eh? Siamo arrivati alle 5? 10 minuti Ah, manco alle 10 minuti Perché Un po' di più Stop Quali sono i moti? Il corpo 1 fa un moto rettilineo Scenderà o salirà A seconda di Se ha massa più o meno Quello della M2, no? Non sappiamo ancora se il salo scende Ma una cosa c'era Fa un moto rettilineo Analogamente E simaticamente Oso dire Il corpo 2 Se la 1 scende E la 2 sale Ma è un moto rettilineo Il moto del corpo 3 è di tipo rotazionale Eh? Attorno a quale asse? Questa qua Perpendicolare alla lavagna Quindi io scriverò 3 equazioni del moto Due di tipi traslazionali Per il corpo 1 e il corpo 2 E uno di tipo rotazionale Cioè scrivere un'equazione Rispetto all'asse z O sull'asse z Corpo 1 M1 Qual è la direzione positiva? Dobbiamo decidere Direzione positiva Boh Monetina Quindi Aspetta Dovete sfidare voi stessi Veramente Un consiglio Da persona Che è stato studente Non ero particolarmente bravo A fare esami Finchè non ho capito Come fare esami E Ho cominciato a capire Come fare esami Quando ho cominciato a capire Cosa voleva studiare Cosa voleva dire capire E cosa voleva dire capire Non era Leggere E imparare a memoria Agli appunti Ma era capirli E il modo migliore Per sfidare Se uno ha capito E di fare qualcosa Di diverso Di quello che è scritto Sul libro O sugli appunti Perché se voi Ripetete a memoria Quello che c'è agli appunti Non avete ancora La certezza Per capito Per essere sicuri Io adesso Sceglierò A caso In questa lezione Di scegliere Basso questo Quando state preparando L'esame Fate apposta Di cambiare Non studiate La versione Che vi faccio qua Fate apposta Cambiarlo Perché io l'orale Magari la cambierò E cosa fate? Dovete capire Quindi Se questa è la direzione Positiva Allora Le direzioni positive Di questa Non sono più libere Avendo scelto Avendo scelto La direzione positiva Di questa è salire E la direzione positiva Di questa È entrante Nella lavagna È entrante Cioè Gira in senso La direzione positiva Di questo È girare in senso orario È entrante È entrante Quindi I momenti torcenti Quindi Scriviamo prima L'equazione del moto Traslazionale Na uguale a F M1 Quali forze esistono? Forza peso Che è verso il basso Segno più Tensione del filo Che è verso l'alto Segno negativo Ma attenzione Ci sono due segmenti Di filo Perché non è un unico Segmento di filo Perché il chiodo Sta In un certo senso Separando il filo In due parti Eh? Se non vi piace L'idea di un unico Filo E l'idea Come mai sono due E allora pensate Questo è il cilindro Avete un filo Che è di qua E' inchiodato questo E avete un altro filo Che è di qua E' inchiodato questo Sono due fili Non c'è un pezzo in comune Eh? Ora suonate così Se volete Sono due Tensioni In questo esercizio Uno a destra Chiamiamo il segmento A E questo è il segreto B Eh? Shhh Quindi Il corpo 1 E' facile Quindi Abbiamo MA1 Però Eh? Sarà Più Mg M1g Meno la tensione Ta La tensione Ta è questa freccia Che va verso l'alto Dal disegno Un po' più corto Ok? Qual'è la situazione Sul corpo 2? Il corpo 2 Avrà una tensione diversa Chiamiamola Td Non è detto che sia uguale a questo Perché sono due fili diversi Questo è verso l'alto Quindi l'equazione del corpo 2 Sarà questo Questo è meno M2g Td Perchè la forza appesa verso il basso E la forza appesa verso il basso E la forza appesa verso l'alto Più Tb Adesso l'equazione del moto del corpo Del cilindro E che tipo di equazione è? E' di tipo rotazionale Quindi non è M A uguale a F Ma I alfa Ho teta due punti E alfa L'accelerazione angolare La scriviamo così Perchè l'alfa non l'ho mai usato Anche se sapete L'ho menzionato Non l'ho mai usato Quindi questi sono Le x due punti Questa è l'accelerazione angolare Che magari la scriviamo Alfa Non lo uso Ma siate pronti a riconoscerlo come tale Il momento inerza per l'accelerazione angolare E' uguale Al momento delle forze esterne Sul cilindro si intende Il cilindro cosa vede? Vede qua interagisce C'è un'interazione tra il cilindro e il filo E il filo è sensibile E di massa anche prascurabile Quindi la forza che c'è qui E' uguale e contraria a questa Quindi questo è T A Se questo è T A Questo è T B E questo è T B Ci sono due forze Che stanno cercando di far accelerare angolarmente Ci sono due momenti torcenti Che stanno cercando di far accelerare angolarmente Questo benedetto cilindro Ma quali segni agebrici hanno? Qual è il momento torcente di questa forza qua Rispetto all'origine? Quindi scegliamo il punto qui Il punto rispetto al quale misuriamo il momento La quantità di moto Il punto rispetto al quale misuriamo i momenti torcenti Sia il centro del cilindro Quindi qual è il momento torcente di questa forza Rispetto a questo punto? Ovviamente questo è 90 gradi R è il raggio del cilindro Sarà R per T A Ma che segno algebrico ha? Che direzione ha? Esce dalla lavagna o entra dalla lavagna? Entra E qual'era la direzione positiva per il moto del cilindro? Entrande Quindi questo entra con il segno più Quindi questo è più T A R E questo è un momento torcente che esce dalla lavagna Quindi entra con un segno negativo Meno T B R Fondamentale questo passaggio Come questi hanno dei segni algebrici Questo pure ha dei segni algebrici Va bene? D'accordo? Ovviamente la R può essere messa in comune E già aveva detto una cosa interessante Che il cilindro non accelererà angolarmente Se T A e T B fossero uguali Se T A e B sono uguali il cilindro non accelera Allora dobbiamo risolvere questo sistema Allora prima cosa questo cilindro come lo mettiamo? I cilindri o le ruote I momenti di inerzia rispetto all'asse passante per il centro Li scriviamo così Come? Alla massa della ruota o del cilindro Il raggio al quadrato Moltiplicato per un numerino Magari lo indico con che so K Dove quando la ruota è vuota Con tutta la massa all'esterno K vale 1 Se invece la massa è sparpagliata in maniera omogenea K vale 1 mezzo E se la massa è distribuita in maniera strana Questa è la ruota con la parte centrale Cava e solo la bassa Allora K sarà qualcos'altro No? Minore di 1 Quindi scriviamo il momento inerzia Che ci dice come la massa della ruota Il raggio al quadrato della ruota Per un numerino Che ci dice come è sparpagliata la materia Quindi perchè potremmo usare cilindri diversi Infatti l'esercizio sarà questo no? E' vero? Quindi questo è uguale a K M R quadro Teta 2 punti Uguale a T A meno T B R C Ok? Allora la cosa importante da notare qui Che rapporto c'è tra questo e questo? Attenzione Attenzione Ho detto che il filo era inchiodato Quindi se questo scende di 10 cm Voi dovete immaginare che questo chiodo Perchè può girare assieme al cilindro Questo chiodo deve spostarsi Deve fare un arco di cerchio di 10 cm Giusto? Quindi di quanto si sposta questo Di quanto si sposta questo Equivale a di quanto si è spostato questo Solo che questo è un moto lineare Questo è un moto lungo l'arco di cerchio Quindi l'arco di cerchio qua Deve essere uguale a di quanto questo si è spostato Ma l'arco di cerchio cos'è? E' uguale al raggio della ruota Per l'angolo di cui è ruotato Questo è l'angolo di rotazione Questo rappresenta la derivata seconda dell'angolo Quindi c'è un legame tra questa derivata Seconda tetra C'è un legame tra tetra Di quanto il corpo 1 è sceso E di quanto il corpo 1 è salito E qual'è il legame? E' questo qua Quindi in realtà l'accelerazione Del corpo 1 rettilineo E' uguale ad R volte L'accelerazione angolare Questa è l'equazione cosidiaria Che esprime il fatto che il filo E' inchiodato dal cilindro E quindi il corpo 1 scende E il cilindro 3 deve ruotare In un angolo dato da quella relazione Riprenderemo questo ovviamente giovedì Riprenderemo questo ovviamente giovedì